Capitolo 9 Un lunedì, il 14 marzo, il Paradiso delle Signore inaugurava i suoi magazzini nuovi con una grande esposizione di novità per l'estate, esposizione che doveva durare tre giorni. Fuori tirava una brezzolina fresca e la gente, sorpresa da quel ritorno dell'inverno, si affrettava per la via coprendosi il più possibile. Ma nel vicinato, dietro le porte chiuse delle botteghe, c'era un grande fermento di emozione e di curiosità. Dietro i vetri si vedevano le facce pallide dei negozianti tutti intenti a contare le prime carrozze ferme davanti al nuovo portone, il Rune of Saint-Agustin. Il portone è alto e profondo, come un portico di chiesa con sopra un gruppo statuario. L'industria e il commercio che si davano la mano tra un imbroglio di simboli era riparato da una grande tettoia che con le sue dorature fresche pareva illuminasse i marciapiedi di un raggio di sole. A destra, a sinistra, le facciate, troppo bianche ancora, pigliavano le mosse per stendersi lungo Rue Monsigny e Rue de la Michodière, occupando tutto il quadrilatero, salvo la parte di Rue du Dudes de Sambre, dove doveva essere costruito il credito fondiario. Quando i negozianti di quelle strade alzavano gli occhi, vedevano in quella specie di caserma i mucchi delle merci, attraverso i cristalli che dal pianterreno al secondo piano, aprivano la casa alla luce del giorno. Quel cubo enorme, quel bazar smisurato, toglieva loro la vista del cielo e pareva che avesse un po' di colpa per quel freddo che faceva loro battere i denti in fondo alle gelide stamberghe. Mouret, intanto, era lì, fin dalle sei a dare i suoi ultimi ordini. Nel mezzo, di fronte al gran portone, una larga galleria correva da cima a fondo fiancheggiata a destra e a sinistra da due altre più piccole, la galleria Monsigny e la galleria della Michaudière. Le corti, trasformate in sale, erano tutte avetrate e delle scale di ferro salivano dal pianterreno tanto al primo che al secondo piano. Dei ponti, pure quelli di ferro, passavano da una parte all'altra. L'ingegnere, che era per caso un uomo intelligente, un giovanotto innamorato dei tempi nuovi, non si era servito delle pietre, che per i sotterranei e i piloni degli angoli. Tutto il resto dell'ossatura era di ferro, a colonne che sorreggevano le travi e i travicelli. Le volte dei soffitti e le divisioni interne erano mattoni. Dappertutto aveva così guadagnato posto. L'aria e la luce entravano liberamente. Il pubblico poteva passeggiare, con tutto il suo comodo, per alte e lunghe gallerie. Era quella la cattedrale del commercio moderno, solida e leggera, fatta per un popolo di compratori. A pianterreno, subito dopo entrati, c'erano le cravate, i guanti, le sete. La galleria Monsigny era occupata dalla biancheria e dalle teledipinte, quella della michaudière, dalle mercerie, dalle maglie, dalle stoffe, dalle lane. Al primo piano, i vestiti, gli scialli, letrine e altri nuovi reparti. Al secondo, i letti, i tappeti, le stoffe per mobilia, tutto quello che prende posto ed è difficile da muovere. I reparti erano quel giorno 39 e gli impiegati non meno di 1800, dei quali 200 donne. Nella vita sonora delle alte navate metalliche, un popolo intero si muoveva al lavoro. L'unica passione di Mouret era di vincere la donna. La voleva regina nel suo magazzino. Le aveva innalzato quel tempio per dominarla meglio, inebriarla di galanti cortesie e trafficare sui suoi desideri, trar profitto della sua febbre. In questo consisteva la sua tattica. E perciò, note e giorno, si stillava il cervello per trovare qualche cosa di nuovo. Di già, volendo che le signore delicate non avessero la fatica di salire, aveva messo su due ascensori guarniti di velluto. Poi aveva aperto una stanza dove si davano gratuitamente biscotti e sciroppi e una sala di lettura, una galleria monumentale, decorata anche troppo riccamente, nella quale faceva perfino esposizioni di quadri. Ma la sua più bella trovata era, con le donne serie, di conquistare le mamme per mezzo dei bambini. Non trascurava nessuna forza, speculava su tutti i sentimenti, apriva reparti apposta per bambini e bambine. Fermava le mamme, regalava i bambini figure e palloncini. Stupenda invenzione era questa di palloncini distribuiti ad ogni signora, rossi, di gomma sottilissima, con scritto sopra ciascuno a grandi lettere il nome del magazzino. Attaccati ad un filo, viaggiavano per l'aria portando attorno per le strade una nuova specie di pubblicità. Questa, la pubblicità, era la sua più grande forza. Mure spendeva perfino 300.000 franchi all'anno in cataloghi, annunci, cartelli. Per l'apertura dell'ultima esposizione delle novità d'estate, aveva distribuito 200.000 cataloghi, 50.000 di quali all'estero, tradotti in tutte le lingue. Li faceva ora illustrare con figure, ci metteva su perfino dei campioni incollati sulle pagine, vetrine, stampe, affissi. Il paradiso dava per forza nell'occhio a tutti. Invadeva i muri, i giornali, perfino i sipari dei teatri. Sapeva bene, Mure, che la donna è sempre vinta dalla pubblicità e, fatalmente, accorre al rumore. Del resto, le tendeva i tranelli più abili, studiandola da grande moralista. Aveva così scoperto che non sa resistere ai prezzi bassi e che, quando crede di fare un buon affare, compra, anche senza averne bisogno. E su questa osservazione fondava il sistema di diminuire a poco a poco i prezzi della roba non venduta, preferendo di venderla a scapito, tanto per rinnovare, come voleva sempre, le merci. Poi, penetrando più avanti ancora nel cuore delle donne, aveva pensato la resa, un capolavoro di seduzione gesuitica. Pigli, pigli, signora! Se non le piace più, lo riporterà! E la donna, che resisteva, trovava un'ultima scusa nel poter pentirsi di una sciocchezza fatta, comprava e la sua coscienza stava zitta. La resa ai prezzi bassi erano ormai la regola classica del nuovo commercio. Mamure si rivelava maestro senza rivali nell'ordinamento interno dei magazzini. Secondo lui, nemmeno un angoletto del paradiso doveva restare deserto. Voleva dappertutto rumore, gente, vita, perché la vita, diceva, chiama la vita e in un attimo si propaga. Di qui ogni specie di propagazioni. Fin dalla porta la gente bisognava che si affollasse in modo da far credere a qualcosa di grosso. E ci riusciva, mettendo proprio all'entrata tutti gli scarti dati via quasi per nulla. Sicché la gentucola si accalcava e sbarrava la soglia, facendo credere che i reparti rigurgitassero di gente quando spesso ce n'era pochissima. Nelle gallerie poi aveva l'arte di nascondere i reparti che lavoravano poco. Per esempio, d'estate gli sciagli ed inverno le indiane. Lei circondava di reparti viventi, le affogava quasi in mezzo al tumulto. Era stato il primo a porre al secondo piano i tappeti immobili, perché ci andava poca gente e nel pian terreno avrebbero fatto come dei vuoti. Se avesse potuto, avrebbe fatto passare la strada attraverso il suo magazzino. Proprio allora Muret si sentiva pieno di ispirazioni. Il sabato sera, nel dare un'ultima occhiata ai preparativi per la gran vendita del lunedì, dopo averci lavorato da un mese, capì a un tratto che l'ordine dei reparti, come egli lo aveva disposto, era una stupidaggine. Eppure era di strettissima logica. I tessuti da una parte, la roba bella è fatta dall'altra, con un ordine intelligente che doveva dar modo ai compratori di ritrovarvisi facilmente. Ci aveva pensato fin da quando stava nella botteguccia dell'Eidwen e, subito dopo averlo messo in opera, lo doveva buttare all'aria. Così, infatti, gridò improvvisamente. In 48 ore bisognava sgomberare mezzo magazzino. Gli impiegati sbalorditi, indaffarati, dovettero passare due notti in piedi e tutta la domenica tra una confusione spaventosa. Perfino il lunedì mattina, un'ora prima dell'apertura, c'era della roba fuori posto. Il padrone doveva essere diventato pazzo. Nessuno ci capiva nulla. Era una costernazione generale. «Su, veloci!» urlava Mure con la tranquilla sicurezza di chissà quel che fa. «Questi vestiti? Lassù! E tutta la roba giapponese l'hanno portata dove ho detto? Un ultimo sforzo, figlioli! Vedrete fra poco che vendita!» Anche Bordoncle era lì dall'alba. Non capiva più degli altri. Eseguiva con gli occhi del padrone, inquieto. Ma sapendo che razza di risposte ci fosse da avere in quei momenti, non osava dirgli nulla. Alla fine, non di meno, si fece coraggio e domandò sorridendo «Bisognava proprio buttare così tutto all'aria il giorno prima dell'esposizione!» Mure si contentò di stringersi nelle spalle, ma l'altro insistette e allora andò sulle furie. «Perché le clienti si ammucchino tutti in un posto, eh? Bell'idea da geometra che avevo avuta! Non me ne sarei mai dato pace! Capisce? Circoscrivevo la gente! In quel modo le donne entravano, andavano dritte dove volevano dalla gonnella al vestito, dal vestito al mantello e poi se ne andavano senza nemmeno smarrirsi un po'! Nemmeno uno avrebbe visto i magazzini! Ma osservò Bordoncle. «Ora che avete confuso tutto e sparpagliato tutto in quel modo, gli impiegati si consumeranno le gambe a conturre la gente di reparto in reparto!» Mure scosse il capo. «E che me ne importa! Son giovani! Cresceranno di più! Meglio se passeggiano! Sembreranno di più e aumenteranno la folla!» «Bisogna che i clienti facciano ressa e le cose andranno benone!» Rideva e sommessamente si degnò di spiegare il suo pensiero. «Guardate, Bordoncle! Ecco qui quello che seguirà! In primo luogo, quel via vai continuo delle clienti le disperde un po' dappertutto, le moltiplica e fa loro perdere la testa. In secondo luogo, nel condurle da un campo all'altro, se per esempio vogliono la guarnizione dopo aver comprato la stoffa, il dovere andare su e giù fa apparere loro tre volte il negozio. In terzo luogo, sono costrette anche a passare per quei reparti dove non avrebbero mai messo piede e ci rimangono prese e comprano. In quarto luogo…» Bordoncle rideva anche lui. Allora Mure, tutto contento, si fermò e gridò ai garzoni «Benissimo! Ora una bella spazzata e anche questa è fatta!» Ma nel voltarsi si accorse di Denise. Lui e Bordoncle si trovavano davanti al reparto dell'abbigliamento, che egli aveva sdoppiato mettendo i vestiti propriamente detti al secondo piano, dall'altra parte. Denise, scesa per prima, spalancò gli occhi, sbalordita da quei mutamenti. «Come? Si sgombera?» La sua sorpresa parve che divertisse molto Mure, cui piacevano grandemente queste improvvisate da teatro. Fin dai primi di febbraio, Denise era rientrata al paradiso ed era rimasta tutta contenta di vedersi bene accolta da tutti e quasi riverita. Madame Orelie particolarmente le si mostrava benevola. Marguerite e Claire parevano rassegnate, perfino Juvet ci si adattava, non senza imbarazzo, quasi desiderando cancellare il brutto ricordo. Bastava che Mure avesse detto una parola e tutti si contentavano di sussurrare, standole dietro con le occhiate. Fra tanta amabilità di tutti, non la infastidivano che la singolare tristezza di Deloche e i sorrisi misteriosi di Poulin. Mure intanto continuava a guardarla senza quasi accorgersene. «Che volete dunque, signorina?» domandò egli alla fine. Denise non l'aveva visto. Arrossì leggermente. Fin da quando era tornata al paradiso, non faceva che ricevere da lui segni di benevolenza che la emozionavano assai. Poulin, né lei sapeva il perché, le aveva raccontato per filo e per segno gli amori del padrone con Claire quando stavano insieme, quanto le dava, e ci tornava sopra spesso, aggiungendo anche che Mure aveva un'altra amante, quella Madame Desforges, che tutti nel magazzino conoscevano. Questi racconti turbavano Denise e davanti a lui si sentiva riprendere dalle paure di prima, da un malessere in cui la riconoscenza si scontrava con la collera. Allora Mure le si avvicinò per dirle più ad agio «Stasera, dopo la vendita, fatemi il piacere di passare nel mio studio. Devo parlarvi». Sconvolta, piegò la testa senza rispondere e si affrettò a entrare nel reparto, dove stavano arrivando le altre ragazze. Ma Bourdonc l'aveva sentito Mure e lo guardava sorridendo. Osò perfino dirgli appena furono soli. «Anche questa, eh? State ben attento. L'affare si fa serio». Mure si difese con calore, celando la sua emozione sotto un'aria di altera non curanza. «Lasciate andare, si fa per gioco. La donna che macchiapperà, figlio mio, non è ancora nata». E vedendo che i magazzini finalmente aprivano, accorse per dare un'ultima occhiata ai reparti. Bourdonc scuoteva la testa. Questa Denise, così semplice per Benino, cominciava a dargli fastidio. Una prima volta era riuscito a vincerla, mandandola via. Ma tornava, e tanto potente che la doveva trattare d'avversario che fa paura, muto davanti a lei, mentre aspettava di nuovo la sua ora, se mai fosse tornata ancora. Mure, a cui andò dietro e che raggiunse, urlava nella sala di Rue Sant'Agustin, di fronte al portone d'ingresso. «Si vuole canzonarmi? Avevo detto di mettere gli ombrelli azzurri dalle parti... Svelti! Buttate all'aria! Svelti! Non volle intendere ragioni. Una schiera di impiegati dovette accorrere a disporrere diversamente tutta l'esposizione di ombrelli. Vedendo arrivare le clienti, fece perfino chiudere per un momento le porte e ripeteva che non avrebbe riaperto piuttosto che lasciare gli ombrellini azzurri nel mezzo. Era un rovinare tutto il suo ordine. Huten, Mignot, i più bravi a far le vetrine venivano a vedere, alzavano gli occhi, ma essendo di una scuola diversa, ostentavano di non capirci nulla. Finalmente riaprirono e la gente entrò. Fin dal primo momento, prima che i magazzini fossero pieni, ci fu nell'entrata una tale calca che bisognò chiamare le guardie di città perché facessero un po' di largo sul marciapiede. Mouret aveva calcolato giusto. Tutte le massaie, un reggimento intero di borghesi e di popolane si buttavano sulle occasioni, sugli scampoli e sugli scarti esposti quasi lì sulla strada. Mani alzate continuamente tastavano le stoffe appese all'entrata. Un bordato a 35 centesimi, certa roba grigia in lana e cotone a 45, ma soprattutto un'orleana a 38 centesimi che devastava addirittura le borse povere. Era un urtare di spalle e di gomiti intorno alle ceste e agli scaffali dove tutta la roba ribassata, trine a 10 centesimi, fiocchi a 25, elastici da calze a 15, guanti di filo di scozia, sottane, colletti, cravate, calze e calzini sparivano da un momento all'altro come divorati dalla folla. Per quanto fosse freddo, i commessi che vendevano esposti all'aria della strada non potevano accorgersene. Una donna incinta urlava, due bambine furono quasi soffocate. Per tutta la mattinata la calca fu sempre più fitta. Verso l'una era tale che la strada pareva barricata come in tempo di rivoluzione. Mentre la Debove con la sua Blanche stavano senza sapersi decidere sul marciapiede di fronte, si fece loro incontro Lamarty con Valentin. «Eh, quanta gente!» disse la Debove. «Là dentro si devono schiacciare. Io mi sentivo poco bene, non dovevo venire, ma mi sono alzata per prendere un po' d'aria». «Come me?» rispose l'altra. «Ho promesso a mio marito d'andare da sua sorella a Montmartre e nel passare mi sono ricordata che avevo bisogno d'una stringa. Tant'è comprarla qui che in un altro posto, non è vero? Oh, non spendo un soldo, eh! Già, non ho nemmeno bisogno di nulla! Ora!» Ma i loro occhi non si allontanavano dal portone. Erano come prese portate via dal vento nella moltitudine. «No, no, io non c'entro!» «Ho paura!» disse la Debove. «Blanche, andiamocene! Se no, qui ci stritolano!» Ma le mancava la voce. A poco a poco cedeva al desiderio di entrare dove entravano tutti e la sua paura si dissolveva in quell'irresistibile curiosità. La Martì anche lei si lasciava trascinare. Badava a ripetere «Reggimi un po' il vestito, Valentin! Ah, non ho mai visto una cosa come questa! Vi portano di peso addirittura! Non c'è bisogno di camminare! Immaginiamoci dentro!» Le signore, travolte dalla corrente, non potevano più tornare indietro. Come i fiumi attirano le acque sparse d'una valle, così pareva che il fiotto delle clienti trascorresse in mezzo all'atrio, attraendo quelli che passavano e aspirando la gente da ogni parte di Parigi. Non andavano avanti che ad agio ad agio, stretti in modo da perdere il fiato, sorrette da spalle e ventri di cui sentivano il molle calore, e il desiderio soddisfatto godeva di quello strettume che sempre più agguzzava la loro curiosità. Era una confusione di signore vestite di seta, borghesucce poveramente vestite, ragazze senza cappello, prese tutte dalla medesima febbre. Qua e là qualche uomo, quasi sommerso tra quelle gonnelle, si guardava attorno, non senza inquietudine. Una balia, proprio nel mezzo, teneva su il bambino che se la rideva allegramente. Soltanto una donna magra si arrabbiava e diceva insolenze perché un accanto a lei pareva le volesse entrare nel corpo. «Qui ci lascio il vestito», ripeteva la Debove. La Marti, senza dire nulla, col viso ancora agghiacciato dall'aria aperta, si alzava in punta di piedi per vedere al di sopra delle teste l'interno del magazzino. Le sue pupille grigie erano piccole come quelle di una gatta che venga dalla luce piena, e pareva che non distinguisse nulla, col suo sguardo vuoto, come se si svegliasse allora. «Ah, finalmente!» disse sospirando. Le signore si erano a un tratto sentite libere. Si trovavano nella sala di Rue Sant'Agostè, e la loro sorpresa fu grande nel vederla quasi vuota. Ma si sentivano bene, pareva loro di entrare nella primavera, uscendo dall'inverno della strada. Mentre fuori il vento gelido soffiava, la bella stagione nelle gallerie del paradiso sembrava si posasse tiepida con le stoffe leggere, lo splendore fiorito delle tinte chiare, l'allegria campestre della moda d'estate e degli ombrellini. «Guardate! Guardate!» esclamò la Debov, immobile, guardando per aria. Era l'esposizione degli ombrellini. Aperti, rigonfi come scudi, coprivano la sala dall'invetriata, fino alla cornice di quercia verniciata. Intorno agli archi stavano come festoni, lungo le colonne sottili scendevano in ghirlande sull'orlo delle gallerie, perfino sui gradini delle scale, si allineavano in strette file e, dappertutto, disposti in ordine simmetrico, coprendo i muri di strisce rosse, verdi e gialle, parevano grandi lanterne alla veneziana, accese per qualche festa immensa. Negli angoli c'erano ornamenti più complicati, delle stelle fatte a forza di ombrellini a un franco e 95, che con le loro tinte chiare, celeste, crema, rosa, splendevano con la dolce luce di una fiaccola ardente dietro la porcellana, mentre sopra, smisurati ombrelli giapponesi, nei quali le gru d'oro volavano per un cielo di porpora, fiammeggiavano coi riflessi d'incendio. Lamarty cercava le parole per esprimere la sua ammirazione e non poté dire altro che... è come nelle favole. Poi, cercando d'orientarsi, guardiamo un po', le stringhe si comprano alla merceria, compro la mia stringa e me la do a gambe. «Vengo con voi», disse la Debove. «Bianche, non è vero? Noi non si fa che attraversare il magazzino e ce ne andiamo». Ma fin dalla porta le signore erano già sperse. Voltarono a sinistra e, per quel mutamento della merceria, caddero fra legale e poi fra i vestiti. Nelle gallerie faceva un gran caldo. Un caldo da stufa, pesante e rinchiuso, carico dell'odore delle stoffe. Lo scalpiccio della gente ne restava soffocato. Allora tornarono verso la porta. S'era già formata la corrente di quelli che uscivano, uno sfilare senza mai fine di donne e bambini con sopra una nuvola di palloncini rossi. Di palloncini ce ne erano pronti 40.000 e c'erano dei garzoni apposta per distribuirli. A stare a guardare la gente che se ne andava, si sarebbe detto che volassero nell'aria, trattenuti da fili invisibili, delle enormi bolle di sapone riflettenti l'incendio degli ombrellini. Tutto il magazzino ne era rallegrato. «È proprio un caos!» esclamò la Debove. «Non si capisce nemmeno più dove uno è!» Ma non potevano rimanere tra le spinte della folla che entrava e usciva. Jouvet accorse per fortuna ad aiutarle. Se ne stava nell'entrata, grave, attento, squadrando ogni donna che passava, particolarmente addetto alla polizia interna, le ladre le sentiva dall'odore. E teneva d'occhio soprattutto le donne incinte, quando la febbre dei loro occhi gli dava da pensare. «La merceria? Laggiù, signore!» rispose con tutta cortesia. «A sinistra, dietro le maglie». La Debove ringraziò. Ma Lamartine, nel voltarsi, non si trovò più accanto Valentin e già si era spaventata quando la vide assai più in giù, in fondo alla sala di Rue Sant'Agostène, tutta assorta davanti a una tavola dove si mettevano in vendita ad alta voce cravate da donna a 95 centesimi. A More piaceva pigliar così all'amo la cliente. E a votarle le tasche ogni espediente gli era buono. E si burlava della discrezione di certuni che vogliono che le merci invitino da sé il compratore. Degli impiegati adatti, parigini puro sangue, fannulloni e chiacchieroni, davano via così a pacchi la robetta di scarto. «Mamma, mamma!» disse Valentin. «Guarda che cravate! C'è da una parte un uccellino ricamato!» L'uomo che vendeva seguitava a giurare che era tutta seta, che il fabbricante era fallito e che un'occasione come quella non sarebbe più tornata. «95 centesimi! Pare impossibile!» esclamò Lamartine, sedotta come sua figlia. «Pigliamone due! Non sarà mica una rovina!» La Debove fece una smorfia di disprezzo. Quel vendere ad alta voce non lo poteva soffrire. Un impiegato che la chiamasse la faceva scappare via subito. Lamartine, invece, non capiva quell'orrore per gli imbonitori. Lei era tutta contenta quando le facevano violenza, immergendosi nella carezza dell'offerta pubblica, tuffando le mani dappertutto e buttando via il tempo in parole inutili. «Ed ora», riprese a dire, «Svelte a pigliare la stringa! Non voglio vedere più nulla!» Ma nel traversare le sete leggere e i guanti le mancò il cuore un'altra volta. Sotto la luce diffusa c'era un'esposizione a colori vivaci e allegri di un effetto mirabile. I banchi, disposti in simmetria, parevano aiole di fiori. La sala un giardino alla francese, cui sorridesse la gamma di tutta una flora. Sul legno, nelle scatole aperte, fuori dagli scaffali troppo pieni, un fiorire di sete armonizzava il rosso acceso dei gerani col biancolatte delle petunie, il giallo oro dei crisantemi con l'azzurro celeste delle verbene. E più su, dagli steli metallici, pendevano a ghirlande stoffe lasciate andare, nastri penzoloni, che si allungavano e si avvinghiavano alle colonne, moltiplicandosi negli specchi. Ma sopra ogni altra cosa attraeva la folla uno chalet svizzero fatto tutto di guanti, un capolavoro di Mignot, che ci aveva perso due giornate. I guanti neri facevano il pian terreno, poi venivano quelli color paglia, gialli, rosso cupo, messi al posto loro per indicare le finestre, i terrazzini, le tegole. Che desidera la signora? Chiese Mignot vedendo Lamarty ferma davanti lo chalet. Ecco dei guanti di Svezia a un franco e 75 prima qualità. Non dava requie, chiamava quelli che passavano in fondo al suo banco e li importunava a forza di cortesia. Vedendola rifiutare con un moto del capo seguitò guanti del Tirolo a 1,25, guanti di Torino per bambini, guanti di tutti i colori. No, grazie, non ho bisogno di nulla, rispose Lamarty. Ma Mignot sentì che stava per cedere e la salì più vivacemente mettendole sotto gli occhi i guanti ricamati. Non seppe resistere e ne comprò un paio. Poi, vedendo che la Debove la guardava sorridendo, arrossì. Che bambina, eh? Se non compro la stringa e scapo via subito, son fritta. Disgraziatamente, alla merceria c'era una talressa che non si poté far servire subito. Aspettavano tutte e due da dieci minuti e già perdevano la pazienza quando capitò la Bourdellè con i suoi tre bambini. Aveva voluto, diceva lei con la sua tranquillità da donnina che sa il fatto suo, aveva voluto mostrare ai piccini tutta quella baraonda. Madeleine aveva dieci anni, Edmond otto, Lucien quattro, e facevano a chi era più contento di quel divertimento, che costava tanto poco e che era stato loro promesso da parecchi giorni. «Son troppo bellini, voglio comprare un ombrellino rosso», disse improvvisamente Lamarty che pestava i piedi dall'impazienza di star lì senza far nulla. Ne scelse uno da quattordici franchi e mezzo. La Bourdellè, dopo essere stata a vedere con occhiatacce di disapprovazione, le disse pacatamente «Avete fatto male ad aver tanta furia, tra quindici giorni costerà soltanto dieci franchi, a me non mi imbrogliano!» e le fece una bella lezione da donna di casa. I magazzini ribassano dunque, bastava aspettare. Non loro dovevano guadagnare alle sue spalle, ma lei invece a danno loro, approfittandosi delle vere buone occasioni. Ci si metteva d'impegno, gareggiando di malizia si vantava perfino di non avergli mai lasciato un soldo di guadagno. «Su!» disse alla fine. «Ho promesso ai miei bambini di far vedere loro le figure nel salone. Venite con me. Facciamo in un momento!» La stringa fu subito dimenticata e Lamarty cedette, mentre la Debove avvertì che voleva far prima il giro del pian terreno. Si sarebbero ritrovate lassù. La Bourdellè cercava la scala. Quando vide un ascensore vi cacciò dentro i bambini per dar loro anche quel divertimento. Lamarty e Valentin entrarono anche loro nell'angustia della gabbia, dove si sentirono un po' strette, ma gli specchi, le panchine di velluto e lo sportello di metallo lavorato le tennero occupati in modo che arrivarono al primo piano senza accorgersi del dolce salire della macchina. Lì, fin dalla prima galleria, ebbero un altro regalo. Nel passar davanti alle stanze dei rinfreschi, la Bourdellè non si dimenticò di far dare lo sciroppo e piccini. Era in una stanza quadrata, con un gran banco. Ai due capi, da due cannelle scendeva un sottile filo d'acqua. Dietro, su due palchetti, stavano in fila le bottiglie. Tre garzoni non facevano che lavare e riempire i bicchieri. Per tenere a freno l'ingordigia dei clienti, avevano dovuto mettere delle ringhiere coperte di velluto per non lasciar passare più di tanti alla volta. La folla vi si schiacciava. C'erano alcuni che, perdendo ogni scrupolo in faccia a quelle ghiottonerie, gratis et'amore, ne ingozzavano tante da avere un'indigestione. «E loro dove sono?» esclamò la Bourdellè quando uscì dalla folla ed ebbe ripulito la bocca ai bambini col fazzoletto. Ma vide subito Lamartie e Valentin in fondo a un'altra galleria, lontane e lontane. Tutte e due affogate tra le sottane, compravano e compravano. Mamma e figlia, senza più nessun ritegno, sparirono trascinate dalla frenesia dello spendere. Quando fu giunta, finalmente, nella sala di lettura, la Bourdellè mise Madeleine, Edmond e Lucien a sedere davanti al tavolo e andò poi ad una delle librerie a prendere un album di fotografie. La volta della stanza era sovraccarica di dorature. Ai due lati, due grandi caminetti stavano in simmetria. Quadri di poco valore, ma di ricchissima cornice, coprivano i muri e, tra le colonne davanti a ciascuna delle aperture che davano sui magazzini, c'erano alte piante verdi in basi di porcellana. Intorno alla tavola c'era molta gente che, in silenzio, sfogliava le riviste e i giornali. Delle signore si levavano i guanti e, postesi dinanzi ad un calamaio, scrivevano lettere sulla carta con le cifre del magazzino, che cancellavano con un frego di penna. Qualche uomo, sdraiato in poltrona, leggeva il giornale. Ma i più stavano lì, senza far nulla. Mariti che aspettavano le mogli indaffarate per i reparti. Giovani signore che spiavano senza scandalo l'arrivo dell'amante. Vecchi lasciati lì, come si lascia un mantello alla porta per riprenderlo a festa finita. E tutti, standosene comodamente a sedere, gettavano attraverso le finestre aperte dell'occhiate nella profondità delle gallerie e delle sale, la cui voce lontana moriva nello scricchiolio delle penne e nel fruscio dei giornali. «Ma come? Ci siete anche voi?» disse la burdele. «Non vi riconoscevo nemmeno». Accanto ai bambini, una signora nascondeva il viso tra le pagine di una rivista. Era la Guibel, che non poté trattenere un moto di dispetto, ma si rimise subito e raccontò che era salita per riposarsi un poco dagli spintoni e, avendole l'altra domandato se era venuta a comprare qualcosa, rispose con la sua aria languida, nascondendo dietro le palpebre l'aspro egoismo dei suoi sguardi. «Oh no! Anzi, sono venuta per rendere! Già, voglio rendere una sottane delle tende che non mi vanno più! Ma c'è tanta gente che aspetto per potermi avvicinare i reparti!» E seguitò a dire che quella resa era molto comoda. Prima non comprava mai nulla, ora qualche volta si lasciava tentare. Il vero era che siccome rendeva quattro oggetti su cinque, cominciava ad essere conosciuta da tutti e tutti odoravano già il cattivo affare in quell'eterna scontentezza che le faceva riportare gli oggetti a uno a uno dopo averli tenuti qualche giorno. Ma pur chiacchierando, non levava gli occhi dalla porta della sala e parve tutta contenta quando la Bourdelet si voltò verso i bambini per spiegar loro le fotografie. Quasi in quel momento entrarono Debove e Paul di Valagnos. Il conte, che fingeva di far vedere al giovanotto i magazzini nuovi, scambiò con lei una rapida occhiata. Poi lei si rimise a leggere attentamente, come se non l'avesse visto. «To! Paul!» disse a un tratto una voce dietro quei due. Era Mouret, che stava sorvegliando se le cose andavano a modo suo. Si strinsero la mano e domandò subito «Madame Debove ci ha fatto l'onore di venire? Dio mio, no! E lei è dispiaciuto molto, ma non si sente bene, niente di grave, eh?» riprese il conte. Ma finse a un tratto di scorgere la guibal e accorse levandosi il cappello. Moreva la gnoche. Si contentarono di salutarla, così da lontano. Anche lei fingeva ad essere sorpresa. Paul sorrise. Ora capiva tutto, e raccontò sommessamente a Mouret come il conte si era imbattuto in lui in rue Richelieu, e da principio aveva cercato di scappare. Poi aveva voluto a ogni costo trascinarlo al paradiso, col pretesto che non si poteva fare a meno di vedere anche quella. Da un anno quella signora gli strappava più danaro e divertimenti che poteva, senza mai scrivere una riga, dando gli appuntamenti nei luoghi pubblici, nelle chiese, né i musei, né i magazzini, per mettersi d'accordo. «A ogni appuntamento», sussurrava il giovane, «devono cambiare camera». L'ultima volta era in giro per cose d'ufficio. E ogni due giorni scriveva alla moglie o da Blois o da Liburno o da Tarbes. E io sono invece convinto di averlo visto entrare in una certa pensione di battignol. Ma guardalo! Com'è bello lì davanti a lei con quella sostenutezza da uomo serio. «La vecchia Francia, amico mio! La vecchia Francia!» «E il tuo matrimonio?» domandò Mouret. Paul, senza levare gli occhi da dosso al conte, rispose che aspettavano ancora la morte di quella zia. Poi, tutto allegro, «l'hai visto?» «Sei chinato e le ha dato un indirizzo. Lei lo prende con un bel garbo da donna onesta. Una donna terribile, quella rossa lì, con quell'aria così delicata e non curante. Belle cose succedono in casa tua!» «Oh!» rispose Mouret sorridendo. «Le signore non sono mica in casa mia. Sono in casa loro». E si mise a scherzare. L'amore era come le rondini. Portava fortuna alle case. Le conosceva meglio di lui le ragazze che passeggiavano per i reparti e le signore che per caso incontravano un amico, ma se non compravano, almeno facevano numero e riscaldavano le stanze. Seguitando a chiacchierare, portò con sé il suo antico compagno sulla soglia della sala davanti alla grande galleria centrale, che con le sue corti, una dietro l'altra, si svolgeva i loro piedi. Dietro avevano la sala nel suo raccoglimento e il suo scricchiolio di penne e fruscio di giornali. Un vecchio si era addormentato sul monitor. De Bove guardava i quadri con l'intenzione palese di perdere tra la folla il suo futuro genero. Sola, in mezzo a quella calma, la Bordelè discorreva a voce alta coi bambini come se fossi in terra conquistata. «Non le vedi? Sono in casa loro!» ripetè Mure, il quale con un gesto largo mostrava la calca delle donne che riempiva i reparti. La desforge, dopo aver corso il rischio di perdere il mantello tra la folla, entrava finalmente proprio allora e attraversava la prima corte. Poi, giunta alla grande galleria, alzò gli occhi. Pareva una tettoia di stazione, circondata dai ballatoi dei due piani, rotta da scale, attraversata da ponti volanti. Le scale di ferro, a doppio giro, si alzavano in ardite curve con infiniti ripiani. I ponti di ferro, anch'essi sospesi nel vuoto, si lanciavano dritti dall'alto e tutto quel ferro, sotto la luce bianca dei vetri, si componeva in una leggera architettura, in una trina complicata attraverso la quale passava la luce del giorno. Era la moderna realtà di un palazzo visto in sogno, di una babele sorgente di piano in piano e allungantesi nelle sale con altri piani sopra ed altre sale attorno fino all'infinito. Del resto, il ferro regnava dappertutto. L'ingegnere aveva avuto l'onesto coraggio di non nasconderlo sotto un intonaco che imitasse la pietra o il legno. Giù, in basso per non nuocere alle merci, gli ornamenti erano sobiri, a grandi tratti uniti, color grigio. Poi, a mano a mano che la costruzione metallica saliva, i capitelli delle colonne si facevano più ricchi. Le ribaditure formavano dei rosoni, le modanature e le cornici erano cariche di statuine. Finalmente, in cima splendevano i colori, il verde e il rosso. Tra l'oro messo dappertutto, a strisce, a strati, fino ai cristalli che erano anch'essi pieni di ornamenti d'oro. Sotto le gallerie coperte, i mattoni delle volte erano tinti ugualmente a colori vivi. Mosaici e porcellane facevano parte degli ornamenti, rallegrando i cornicioni e togliendo un po' di severità all'insieme e le scale, guarnite di velluto rosso, avevano le ringhiere lucide come l'acciaio di un'armatura. Per quanto conoscesse già i nuovi magazzini, la desforge si era fermata, stupefatta dalla vita ardente che animava quel giorno l'immensa navata. Ai suoi piedi, la fila continuava a incalzarsi e la doppia corrente di quelli che entravano ed uscivano, si faceva sentire fino nel reparto della seta. Ce n'era di ogni sorta ancora. Ma l'ora inoltrata già portava più signore fra le borghesucce e le massaie, molte in lutto, quei loro grandi veli, e sempre delle balie, venute, chissà come, che proteggevano i bambini col gomito proteso. E quei cappelli di tutti i colori, quelle teste bionde e nere, andavano su e giù per la galleria confusamente, tra il vivido splendore delle stoffe. La desforge non vedeva intorno che grandi cartelli con cifre cubitali, staccantisi crudamente sulle indiane colorate, le lucide sete, le lane cupe. Dietro le colonnette di nastri scomparivano a tratti le teste. Un muro di flanella avanzava come un promontorio, dietro il quale rumoreggiasse un altro mare. Dappertutto gli specchi riflettevano infiniti magazzini, con brandelli di esposizioni e frammenti di persone, visi alla rovescia, mezze spalle e mezze braccia. A destra e a sinistra le gallerie laterali s'aprivano, col candore niveo della biancheria e le svariate tinte nelle maglie, allungandosi nei raggi che piovevano dalle aperture a cristalli, sotto le quali la folla non era più se non un polviscolo umano. Poi, quando la desforge alzava gli occhi, lungo le scale, sui ponti sospesi, intorno alle ringhiere, vedeva un via vai continuo e fragoroso di gente che si disegnava in nero sul fondo dei cristalli opachi. Grandi lumi dorati pendevano dal soffitto. Le balaustre apparivano pavesate di tappeti, di sete ricamate, di stoffi intessute di fili d'oro. Da un capo all'altro, fra le trine e le mussole ondeggianti, s'alzavano trofei di drappi e apoteosi di manichini, mezzo vestiti. E quella confusione multicolore si coronava nell'altro reparto dei mobili, con l'esposizione di piccoli letti, forniti dei loro materassi, semi nascosti tra apparati bianchi, quasi una camerata di educande addormentate. «Vuole signora degli elastici per le calze a buonissimo prezzo?» disse un commesso alla Desforges, vedendo che non si muoveva. «A poco prezzo, tutta seta, un franco e quarantacinque». La Desforges non rispose nemmeno. Intorno a lei le grida si facevano sempre più forti e febbrili. Cercò di orientarsi. A sinistra aveva la cassa di Albert Lhomme, che, conoscendola appena, di vista, osò sorriderle amabilmente, senza minimamente affrettarsi tra il mucchio delle fatture che aveva sul banco. Dietro di lui, Joseph si arrabbiava con la scatola dello spago, non riuscendo a fare a tempo ad avvolgere la roba. Allora, ella capì dov'era. La seta le doveva stare incontro. Ma non le ci vollero meno di dieci minuti per arrivarci, tanto la folla aumentava. Per ari e palloncini rossi, retti da fili invisibili si erano moltiplicati e si univano in nuvole color porpora scendendo verso le porte per riversarsi su Parigi. C'erano anche dei bambinetti piccini piccini che, col filo attorcigliato alle manine, venivano avanti e la desforge dovette ogni volta abbassare la testa. Come? Anche lei, signora si è arrischiata, esclamò tutto contento Boutemont non appena la scorse. Andava ora qualche volta da lei a pigliare il tè. Lo aveva presentato Muret. A lei pareva volgare anziché no, ma cortesissimo, d'un buon umore che la sorprendeva e le faceva a piacere. E poi, senza malizia, le aveva raccontato due giorni prima, senza pensare a quel che faceva, gli amori di Muret e di Claire e, consumata dalla gelosia, celando la sua ferita sotto la non curanza, lei veniva a cercare di scoprire la ragazza. Non sapeva altro se non che era una dell'abbigliamento. Il nome non gliel'aveva voluto dire. «Desidera qualcosa?» chiese lui. «Sicuro. Se no, non sarei venuta. Avete della seta per vestirmi da mattina?» Sperava di strappargli il nome della ragazza non potendone più dal bisogno di vederla. Boutemont chiamò subito Favier. Si rimise a chiacchierare con lei, aspettando il commesso che finiva di servire una cliente. Proprio quella bella signora bionda, di cui tutti parlavano nel reparto senza sapere di lei nemmeno il nome. Quella volta la bella signora era in lutto grave. Chi mai le era morto? Il marito o il padre? Il padre, di sicuro no, sarebbe stata più seria. E allora chi? Era una donna per bene, dato che aveva un marito davvero, ma poteva anche portare il lutto per la mamma. Per qualche minuto, per quanto il lavoro incalzasse, tutti gli impiegati si scambiarono le loro ipotesi. «Svelti, svelti, così non va!» gridò Houten a Favier che tornava dall'aver condotto la signora alla cassa. «Quando c'è quella lì, non la finite più! Come se le importasse qualcosa di voi!» «E a me di lei che me ne importa», rispose l'altro stizzito. Ma Houten minacciò di far rapporto se non badavo un po' più a non far aspettare la gente. Era diventato terribile, d'una severità vessatoria, fin da quando il reparto l'aveva aiutato a prendere il posto di Robinot. Si mostrava, anzi, tanto insopportabile dopo le promesse fatte d'essere un buon compagno, con le quali aveva messo su i colleghi che questi ormai sostenevano segretamente Favier contro di lui. «Su, non rispondete?» replicò seccamente Houten. «Monsieur Boutemont vi chiede della seta, i disegni più chiari!» Lì, in mezzo, un'esposizione delle sete d'estate rallegrava la sala con un chiarore quasi d'alba, un levarsi di sole nelle tinte più delicate della luce, il rosa pallido, il giallo tenero, l'azzurro limpido, un vero arcobaleno. C'erano delle sete d'una finezza aerea, dei surash, più leggeri della peluria che il vento solleva agli alberi, dei rasi morbidi, come la pelle delle vergini cinesi. Ce n'erano anche del Giappone e dell'India. Senza contare le sete francesi così leggere, a righe, a dadi, a mazzolini, tutti disegni di fantasia che facevano pensare alle dame del secolo passato, passeggianti nelle belle mattine di maggio sotto i grandi alberi di un parco. «Piglierò questa alla Luigi XIV, coi mazzolini di rose», disse finalmente la desforge, e, mentre Favier misurava, tentò un'altra volta Butemont, che le era rimasto accanto. «Voglio andare all'abbigliamento per vedere se ci sono certi mantelli da viaggio. È bionda, quella ragazza che sapete?» Il caporeparto, cui quell'insistenza cominciava a dar da pensare, si contentò di sorridere, ma in quel momento passava Denise, che aveva consegnato a Lienard, coimerino, madame Butarel, quella signora di provincia che due volte l'anno capitava a Parigi per spendere al paradiso quanto aveva potuto risparmiare sulle spese di casa. E, vedendo che Favier già prendeva la seta della desforge, Houten, credendo di fargli un dispetto, lo fermò. «È inutile, la signorina avrà la cortesia di condurre lei, la signora!» Denise, turbata, dovette pigliare l'involto e la fattura. Non poteva trovarsi faccia a faccia con Houten senza sentire vergogna, come se le rammentasse una vecchia colpa. Tuttavia, aveva peccato solo in sogno. «Mi dica un po', chiese piano piano la desforge a Butemont. E quella ragazza lì, che non sa far nulla? Dunque l'ha ripigliata. Deve essere lei l'eroina del romanzo. Chissà», rispose il caporeparto, continuando a sorridere e risoluto a non dire la verità. Allora, preceduta da Denise, la desforge salì lentamente la scala. Quasi ogni gradino bisognava si fermasse per non essere travolta dall'onda di quelli che scendevano. Nel fremito vivente della cassa intera, il ferro vibrava sotto i piedi come se tremasse incessantemente al soffio della moltitudine. Ad ogni scalino, un manichino dritto e immobile stava in mostra con un vestito, un soprabito, una veste da camera. Parevano una doppia schiera di soldati per qualche parata trionfale, col breve manico di legno, come quello d'un pugnale conficcato nella felpa rossa sanguinante per il taglio fresco del collo. La desforge finalmente stava per arrivare al primo piano, quando un'ondata più forte delle altre la tenne ferma per un altro momento. Aveva ora sotto di sé i reparti del pian terreno, quel popolo di clienti che aveva dovuto attraversare. Era uno spettacolo nuovo. Un formicolio di teste e viste di scorcio, che nascondevano il resto della persona. I cartelli bianchi non erano più che strisce sottili, le colonnette dei nastri parevano basse basse, il promontorio delle flanelle tagliava la galleria con un muro strettissimo, i tappeti e le sete ricamate, drappeggiate sul ballatoio, pendevano i suoi piedi come gli stendardi delle processioni attaccati nel coro di una chiesa. Più lontano vedeva gli angoli delle gallerie laterali, come dalla vetta di un campanile si possono distinguere un po' le strade vicine dove confusamente si muovono i passanti. Ma anche di più la sorprendeva quando chiudeva le palpebre, stanchi gli occhi per quella bagliante confusione di colori, sentir la folla nel rumore cupo di marea e il calore umano che essa esalava. Un polverio sottile si alzava dai pavimenti, pregno di un odore di donna, odore di biancheria e di capelli, acuto e penetrante che pareva l'incenso di quel tempio innalzato al culto della bellezza femminile. Mure intanto, sempre con Vallagnos davanti alla sala di lettura, respirava quell'odore e se inebriava, ripetendo «Sono in casa loro! Ne conosco di quelle che passano la giornata qui a mangiare pasticcini e scrivere lettere! Non manca altro che dia loro anche da dormire!». Lo scherzo fece sorridere Paul, a cui, nella noia del suo pessimismo, seguitava a parere insulsa l'irrequietezza di quella gente per dei cenci. Quando capitava a far due chiacchiere col suo vecchio compagno, se ne andava quasi stizzito di vederlo così pieno di vita in mezzo a quel suo popolo di civette. Non sarebbe mai venuta una di loro col cervello, il cuore vuoto ad insegnare a costui che la vita è stupida e inutile. Proprio quel giorno Octave pareva perdere la sua sicura tranquillità. Lui, che di solito respirava la febbre nelle sue clienti con l'impassibilità di un chirurgo, ora era preso anch'esso dalla passione che a poco a poco metteva sottosopra i magazzini. Da quando si era accorto di Denise e della desforge che salivano lo scalone, parlava a voce più alta, non volendo gesticolava, e senza mai volgersi dalla parte loro, si animava sempre più mano a mano che le sentiva avvicinarsi. Il volto li si accendeva. I suoi occhi avevano un po' di quella strana luce di cui a lungo andare tremavano gli sguardi dei compratori. «Ti devono derubare orribilmente», mormorò Valagnoche, per il quale la folla aveva un aspetto brigantesco. Mure spalancò alle braccia. Non si arriva nemmeno ad immaginarselo, e nervosamente, tutto contento da avere un argomento da svolgere, si mise a raccontare fatti, a dare particolari, a fare delle classificazioni. Prima di tutto, c'erano le ladre di professione, ed erano quelle che davano meno noia perché la polizia le conosceva quasi tutte. Venivano in secondo luogo le ladre per mania, per una perversione del desiderio, nuova malattia nervosa che un alienista aveva già studiato, verificando che andava sempre crescendo a causa della continua tentazione dei grandi magazzini. Per ultimo, c'erano anche le donne incinte, che rubavano un solo oggetto. Per esempio, in casa di una di loro, il commissario di polizia aveva trovato 248 paia di guanti rosa rubati in tutti i negozi di Parigi. «Per questo», disse il Valagnoche, «le donne hanno certi occhi così curiosi. Le guardavo io, e mi parevano mezze pazze con quei visi ingordi. Bella scuola d'onestà!» «Dio buono», rispose il mure. «Per quanto si cerchi di farle sentire a casa loro, non si può mica permettere che si portino via la roba sotto il mantello. E persone per bene, sai? Anche la settimana scorsa, la sorella di un farmacista e la moglie di un consigliere di Cassazione. Anzi, ora stiamo facendo in modo di sistemare la cosa». Si interruppe per additare Juvé che stava appunto andando dietro a una donna incinta, giù, nel reparto dei nastri. Quella donna, la cui pancia enorme doveva molto patire per gli urti della gente, era accompagnata da un'amica incaricata di difenderla dalle spinte troppo forti, e ogni volta che si fermava davanti a un reparto, Juvé non le levava gli occhi di dosso, mentre l'amica, accanto a lei, frugava con tutto comodo nelle scatole. «Oh, ma la chiappa!» aggiunse il mure. «Le sa tutte le loro arti!» Ma la voce gli tremò e sorrise sforzatamente. Denise e Derriette, che non aveva mai smesso di tenere d'occhio, passavano finalmente dietro di lui, dopo aver avuto un bel da fare per uscire dal pigia-pigia. Si volse a un tratto e salutò la cliente col saluto discreto di un amante, che non vuol compromettere una donna fermandola in pubblico. Se non che lei, che già sospettava, si era accorta molto bene dell'occhiata lanciata su Denise. Doveva essere proprio quella, la rivale che era curiosa di conoscere. All'abbigliamento, le ragazze perdevano la testa. Due di loro erano malate, e Madame Frédéric si era licenziata il giorno prima, facendosi fare alla cassa il suo conto e piantando il paradiso da un momento all'altro, in quel modo stesso con cui il paradiso piantava i propri impiegati. Fin dalla mattina, anche in quel trambusto della vendita non si faceva che parlare di ciò. Claire, che il capriccio di Moret faceva sicura e padrona di dire tutto senza timore, reputava l'atto di Madame Frédéric molto chic. Marguerite raccontava la bile di Bourdoncle, che la Frédéric gliel'avrebbe dovuto dire prima, perché non riusciva a farsi ragione di un'ipocrisia simile. Per quanto non si fosse mai confessata con nessuno, sospettavano che se ne fosse andata per sposare il padrone ed uno stabilimento di bagni verso i mercati centrali. «Vuole un mantello da viaggio?» chiese Denise alla desforge dopo averle offerto una seggiola. «Sì», rispose seccamente col proposito d'essere scortese. Il nuovo reparto era seriamente ricco, con alti armadi di quercia intagliata, specchi grandissimi e un tappeto rosso sul quale si attutiva lo scalpiccio continuo delle clienti. Nel tempo che Denise era andata a prendere dei mantelli, la desforge, guardando intorno, si vide in uno specchio e si mise a guardarsi. Doveva essere un bel po' invecchiata se la tradivano così per la prima ragazza venuta. Lo specchio rifletteva intero il reparto con tutto il suo affacendarsi, ma lei non vedeva che il suo viso pallido, senza notare Claire che dietro le sue spalle raccontava Marguerite, una delle furberie della Frédéric, la quale mattina e sera passava per la galleria Chasseul facendo un bel giro, apposta per dare a intendere che era di casa di là dalla Senna. «Questi sono gli ultimi modelli», disse Denise. «Ne abbiamo di diversi colori», e ne spiegò quattro o cinque. La desforge li guardò sprezzante, a mano a mano che ne guardava uno diveniva più aspra. Perché c'erano quelle pieghe che striminzivano l'abito? E quell'altro, così squadrato di spalle, non pareva tagliato con lascia. Viaggiare non voleva mica dire «insaccarsi». «Fatemi vedere qualche altra cosa». Denise spiegava e ripiegava senza far mai un gesto di stizza, e la sua serena pazienza faceva indispettire la desforge che continuamente si riguardava nello specchio di fronte. Ora che era accanto a Denise, poteva fare dei confronti. Era mai possibile che l'avessero preferita quella ragazzetta da nulla? Se ne ricordava bene, era proprio quella che aveva già vista, da principiante sciocca e buona a nulla, come una guardiana d'oche che arrivava dalla campagna. Ora sapeva, certamente, muoversi un po' meglio nel suo vestito di seta, e aveva un aspetto più decente, ma com'era volgare. «Gli ne farò vedere degli altri», disse tranquillamente Denise. Quando tornò fu la stessa scena di prima. Le stoffe erano troppo pesanti e non valevano un soldo. La desforge si voltava e alzava la voce cercando di attrarre l'attenzione di Madame Orelie, con la speranza di farle dare una strappazzata alla ragazza. Ma da quando quest'ultima era rientrata nel reparto, a poco a poco se l'era saputa accattivare. Ci stava come in casa ora. E la direttrice notava in lei singolari attitudini per stare alla vendita, la dolcezza ostinata e la persuasione sorridente. «Se mi volesse dire che genere desidera», domandò di nuovo Denise, con la sua insistenza imperturbabile e cortese. «Ma se non avete nulla di buono», esclamò la desforge. Si interruppe, sentendosi posare una mano sulla spalla. Era la Martì che correva per il magazzino trascinata dalla sua frenesia di spendere. Aveva comprato tanta roba dopo le cravate, i guanti e l'ombrellino rosso, che l'ultimo commesso aveva dovuto deporre su una seggiola il pacco per non farsi spezzare le braccia. E la precedeva strascinandosi dietro alla seggiola, su cui si ammucchiavano gonnelle, tovaglioli, tende, un lume e tre suoni. «Toh!» disse. «Vi comprate un mantello da viaggio?» «Oddio mio no!» rispose la desforge. «Sono uno peggio dell'altro!» Ma la Martì si era precipitata su un mantello a righe che non le pareva tanto brutto. E Valentin già lo guardava attentamente. Allora Denise chiamò Marguerite perché mostrasse il mantello, che era un modello dell'anno precedente, e Marguerite, avvertita da un'occhiata della compagna, lo vantò come un'occasione straordinaria. Quando le ebbe giurato che era stato ribassato due volte, mettendolo da 150 e da 130 a 110 franchi, la Martì non poteva più resistere alla tentazione del prezzo mite. Se lo comprò e il commesso che l'accompagnava lasciò lì tutto, seggiole, fattura e mercanzia. Tra il fervore della vendita, dietro le signore, continuarono intanto le chiacchiere sulla Frédéric. «Davvero? Aveva un amante!» diceva una ragazza venuta di fresco. «Quello dei bagni?» «Sicuro!» rispose Claire. «Le acque chete rovinano i ponti!» Allora, mentre Marguerite le stava vendendo il mantello, la Martì si voltò e, accennando a Claire con la coda dell'occhio, disse pianissimo alla desforge «Eccola lì! Quella è l'amante di Muret!» L'altra, stupefatta, guardò Claire e poi di nuovo Denise rispose «Ma no! È quella piccolina!» E non usando la Martì affermare più nulla, la desforge a voce più alta con un disprezzo da signora che discorre di cameriere «La grande, la piccola, tutte quelle che vogliono!» Denise aveva sentito, impallidì, e alzò i suoi grandi occhi puri sulla signora che la feriva in quel modo e che lei non conosceva nemmeno. Doveva essere quella di cui le avevano parlato, l'amante di Muret. Nell'occhiata che si dettero, Denise ebbe allora una dignità piena di tanta tristezza, una tale schiettezza di candore che Harriet perse un po' del suo contegno. «Giacché non avete nulla che mi vada», disse a un tratto, «portatemi ai vestiti!» «Per l'appunto!» esclamò la Martì. «Ci devo andare anch'io! Volevo comprare un vestito per Valentin!» Marguerite prese la seggiola e la trascinò sulle gambe di dietro consumate a lungo andare da quell'uso. Denise non portava che pochi metri di seta comprati dalla desforge. Dovevano fare un vero viaggio ora che i vestiti stavano al secondo piano, dall'altra parte dei magazzini. S'avviarono per le gallerie piene di gente. Prima di tutte veniva Marguerite, che si tirava dietro la seggiola come se fosse una carrozzina e, ad agio ad agio, faceva la strada alle altre. Fin dalla biancheria, la desforge cominciò a lamentarsi. Bell'invenzione quella di quei bazar, dove per comprare magari uno spillo bisognava fare due miglia. La Martì diceva che anche lei non ne poteva più, ma non per questo si divertiva meno profondamente per quella fatica, per quel lento venir meno delle sue forze, in mezzo all'inesauribile tramestio delle merci. Mure l'aveva vinta e domata con quella sua trovata. Ogni reparto la faceva fermare. Si fermò da principio davanti ai corredi, tentata da certe camicie che Pauline riuscì ad appiccicarle, e Marguerite fu così liberata dalla seggiola che toccò a Pauline con tutte le fatture. La desforge avrebbe potuto continuare per la sua strada, liberando più velocemente Denise, ma pareva godesse di sentirsela dietro, immobile e paziente, mentre ella si fermava a consigliare l'amica. Davanti ai corredi per bimbi, le signore andarono in estasi, ma non comprarono nulla. Poi la Martì non si contenne più e comprò le une dopo le altre un corpetto di seta bianca, delle manopole di pelliccia date con ribasso per via della stagione, delle trine russe per guarnire le tovaglie. Sulla seggiola si ammucchiavano i pacchi facendola scricchiolare, e i commessi si succedevano, stancandosi a mano a mano che il carico era più grosso. «Per di qua, signora!» diceva Denise dopo ogni fermata senza mai lamentarsi. «È una stupidaggine bella e buona!» esclamava la desforge. «Non si arriva mai! Come si fa a non aver messo i mantelli accanto ai vestiari? Bell'imbroglio che è questo!» La Martì, con gli occhi spalancati, ubriacata da tutte quelle belle cose che le passavano davanti agli occhi, si abbandonava ormai per intero alla sua frenesia di spendere, contentandosi di mormorare fra i denti «Dio mio, ma che dirà mio marito? Avete ragione voi! Non c'è ordine in questo magazzino! Ci si perde e si fanno delle sciocchezze!» Nel gran pianerottolo di mezzo, la seggiola quasi quasi non poteva passare. Muret l'aveva ingombrato con un monte di oggetti parigini, tazze col piede di zinco dorato, astucci e portali cuori, perché gli era parso che ci fosse troppo posto vuoto e la gente non ci si accalcasse abbastanza. Ed aveva così permesso a uno dei suoi venditori di esporre su un tavolino le curiosità della Cina e del Giappone, gingilli da pochi soldi, che le signore si litigavano. Era un buon successo inaspettato. Pensava già a ingrandire quella vendita. Lamarty, intanto che i due garzoni portavano la seggiola al secondo piano, comprò sei bottoncini d'avorio, dei topini di seta e un porta fiammiferi di smalto a colori. Al secondo piano il viaggio ricominciò. Denise, che dalla mattina non faceva che andare così su e giù con le signore, moriva di stanchezza. Ma non perdeva la sua pacata cortesia. Dovette aspettare da capo alle stoffe per mobili, dove un creton splendido fermò Lamarty. Poi, ai mobili, questa comprò un tavolino da lavoro. Le tremavano le mani e supplicava, ridendo alla desforge, di trattenerla dallo spendere ancora, quando l'imbattersi nella guibal le fornì una scusa verso se stessa. Nel reparto di tappeti, la guibal era alla fine salita a rendere delle tende turche che aveva comprato cinque giorni prima e stava discorrendo col commesso, un pezzo di giovanotto che dalla mattina alla sera smuoveva pesi da ammazzare un bue. Naturalmente era desolato per quella resa che riportava via la sua percentuale e faceva di tutto per mettere nell'imbarazzo la cliente, immaginando Dio sa quali indelicatezze. Perlomeno un ballo dato con le tende del paradiso, per risparmiare anche quei pochi franchi del noleggio. Sapeva che qualche volta i borghesi economi fanno così. La signora insomma doveva avere qualche ragione per riportarle. Era il disegno? Era il colore? Gliene avrebbe fatto vedere delle altre. Ce n'era un bellissimo assortimento. Ma la guibal non rispondeva altro con una dignità da regina se non che non le piacevano più, ne aggiungeva altra spiegazione. Non volle vedere più nulla. E toccò a lui rimetterci, perché i commessi avevano l'obbligo di riprendere le merci anche se si accorgevano che erano state adoperate. Mentre le tre signore se ne andavano insieme, la martì ebbe un po' di rimorso per il tavolino da lavoro di cui non aveva affatto bisogno. Ma la guibal con la sua pace le disse «Che vuol dire? Lo renderete? Avete visto? Non ci vuol niente? Fatevelo portare a casa. Lo metterete nel salotto, gli altri ce lo vedono. Poi, quando vi è venuto a noia, lo riportate». «To, questo mi piace!» esclamò la martì. «Se mio marito urla un po' troppo, riporterò ogni cosa». E con quella scusa non stette più a fare i conti, ma comprò e comprò col bisogno intimo di tenere tutto per sé, perché non era davvero di quelle donne che riportano. Finalmente giunsero ai vestiti. Ma mentre Denise stava per consegnare a una delle ragazze la seta della desforge, questa parve si ricredesse e disse che voleva pigliare uno di quei mantelli da viaggio, quello grigio chiaro col cappuccio, e Denise dovette aspettare pazientemente per ricondurla all'altro reparto. Sentiva come la signora la volesse trattare da serva con quei capricci da cliente imperiosa. Ma voleva non sgarrare una linea dal suo dovere e si manteneva apparentemente tranquilla per quanto fosse sul punto di ribellarsi. La desforge non comprò nulla al reparto dei vestiti. «Mamma», disse Valentin, «quel vestitino lì, se mi stesse!» La Ghibal stava spiegando sommessamente alla Martì come faceva lei. Quando un vestito le piaceva, se lo faceva mandare, ne ricavava il modello e poi lo rimandava. E la Martì comprò il vestito per la figlia sussurrando, «Questo è un buon consiglio, eh? Siete pratica voi, cara signora!» Avevano dovuto lasciare la seggiola nel reparto dei mobili, accanto al tavolino da lavoro. Perché i piedi di dietro minacciavano di rompersi. E tutte le compere dovevano essere portate ad una delle casse per andare poi all'ufficio di spedizione. Sempre guidate da Denise, le signore se la passeggiavano in santa pace per tutti i reparti. Non si vedevano che loro per le scale lungo le gallerie. Ogni momento si fermavano. Fu così che, accanto alla sala di lettura, trovarono la Bordelè con i suoi bambini carichi di pacchi. Madeleine aveva sotto il braccio un vestito per sé, Edmond una collezione di scarpine e il più piccino, Lucien, aveva in capo un berrettino nuovo. «Anche tu!» disse ridendo la desforgia alla compagna di convento. «Non me ne parlare!» esclamò la Bordelè. «Sono fuori di me dalla rabbia! Non vi acchiappano ora mettendo su queste creaturine!» «Per me lo sai tu se spendo un soldo! Ma come si fa a resistere ai bambini che vogliono tutto quello che vedono?» Ero venuta a fare una passeggiata e, guarda, porto via con me mezzo magazzino! Per l'appunto, Muret, che era ancora lì con Balagnoce e Debove, la stava a sentire sorridendo. Lei se ne accorse e, con un po' di stizza vera, si lamentò scherzosamente di quei tranelli tesi alla bontà delle mamme. Il pensiero di aver ceduto all'inganno della pubblicità le faceva rabbia, ed egli, continuando a sorridere, si inchinava e godeva di quella vittoria. Debove, intanto, aveva fatto in modo di avvicinarsi alla Gibal, a cui andò poi dietro cercando un'altra volta di liberarsi di Balagnoce, ma questi, stanco di tanta calca, si affrettò a raggiungerlo. Denise si era da capo dovuta fermare per aspettare le signore e voltava a loro le spalle. Muret stesso faceva finta di non vederla. Allora la desforge, con l'istinto delicato della gelosia, non ebbe più nessun dubbio. Mentre egli le faceva i complimenti e l'accompagnava un po' da quel padron di casa galante che era, lei studiava il modo di fargli confessare il suo tradimento. Nel frattempo, Debove e Balagnoce, che camminavano avanti con la Gibal, erano giunti a letrine. Accanto all'abbigliamento c'era una sala di gran lusso arredata con degli scaffali, i cui cassetti, di quercia scolpita, si aprivano tirando giù la parte anteriore. Intorno a certe colonne, ricoperte di velluto rosso, salivano a spirale letrine bianche. Da una parte all'altra della stanza correvano merletti e sui banchi si ammucchiavano rotoli di Valenciennes e di Maligne. In fondo, due signore stavano a sedere davanti a un trasparente di seta color malva, sul quale Deloche metteva letrine di chantilly, e guardavano senza mai decidersi e senza mai aprir bocca. «Guarda!» esclamò Valagnoce, cascando dalle nuvole. «Dicevate che la signora si sentiva poco bene! Eccola là, accanto a quel banco, laggiù con Madame Blanche!» Il conte non poté trattenere un sussulto, gettando un'occhiata di traverso sulla Gibal. «Perbacco! Sono proprio loro!» Nella sala c'era un gran caldo. Le voci svanivano in un confuso mormorio. «Le signore vi si sentivano soffocare e avevano il viso pallido e gli occhi lucenti. Si sarebbe detto che tutte le seduzioni del magazzino conducessero a quella suprema tentazione e che quella fosse la stanza intima della colpa, l'angolo dove le più forti cadevano, in mezzo alle trine. Le mani si tuffavano in quel morbido candore e tremavano dal piacere. «Quelle signore si rovinano!» ripresa dire Valagnos, che si divertiva moltissimo a quell'incontro. Debove fece un gesto da marito, sicurissimo della moglie, tanto più che non le dava mai un centesimo. Essa, dopo aver corso tutti i reparti con la figlia senza mai comprare nulla, era giunta alle trine con una rabbia di bramosia insoddisfatta. Stanca morta, pur continuava a guardare, e i milioni di merci che aveva visto, tutta quella roba che desiderava e non poteva portare via con sé, la accecavano e la sbalordivano. Per un po' rimase tra la gente che faceva ressa al banco, e frugava nel mucchio delle trine sentendosi salire dei brividi caldi su per le braccia, fino alle spalle. Poi, a un tratto, mentre la figlia si era voltata da un'altra parte e il commesso si allontanava, volle nascondere sotto il mantello una pezza di trina d'Alençon, ma ebbe un sussulto e la lasciò andare sentendo la voce di Vallagnosche che diceva allegramente «vi abbiamo scoperta, signora mia!» per qualche secondo tacque, bianca come un panno lavato. Poi si mise a spiegare come s'era sentita meglio e aveva voluto pigliare una boccata d'aria, e accorgendosi alla fine che suo marito era con la Ghibal, si riebbe del tutto e li guardò con aria di tanta onestà che quella dovette dire «ero con la desforge ho incontrato questi signori!» Giungevano in quel momento le altre signore. Mouret le aveva accompagnate e le trattenne ancora un momento per mostrare loro jouvet che pedinava sempre la donna in gravidanza e l'amica. Era da non credere quante ladre venivano prese mentre rubavano otterine. La Debove che ascoltava si vedeva già fra due carabinieri. Alla sua età, 45 anni, col suo lusso, con un marito che esercitava un così alto ufficio, eppure non sentiva rimorso e pensava che avrebbe fatto meglio afficcarsi latrine in una manica. Juvet, intanto, disperando di coglierla sul fatto, si era deciso a fermare la donna incinta, quasi sicuro che si fosse riempita anche le tasche, con una sveltezza di mano tale da non essersene accorto. Ma quando l'ebbe tirata da parte e la frugò, rimase male di non trovarle addosso nemmeno una cravattina, nemmeno un bottone. L'amica se n'era andata. Allora capì. La donna in gravidanza era per tenerlo a bada. Chi aveva rubato era l'amica. Le signore ci si divertirono moltissimo. Mouret, un po' stizzito, si contentò di dire «Il buon Juvet questa volta è stato messo nel sacco! Ma si vendicherà!» «Oh!» concluse Balagnos. «Non mi pare troppo adatto. Già, se vi rubano fanno bene. Chi vi insegna a metterli in mostra tanta roba? Non si devono tentare fino a questo punto delle povere donne senza difesa!» Furono le ultime parole, che suonarono come la nota stridula della giornata nel tumulto crescente dei magazzini. Le signore si separarono, attraversando un'ultima volta i reparti affollati. Erano le quattro. I raggi del sole, che si volgeva al tramonto, entrarono obliquamente per le larghe aperture della facciata, illuminando le invetriate delle corti. E in quel chiarore, d'un rosso incendio, salirono come un aureo vapore i polviscoli sollevati nella mattina dallo scalpiccio della folla. La luce coglieva nel mezzo la grande galleria centrale. E sul fondo rosso spiccavano le scale, i ponti, tutto quel ferro sospeso per aria. I mosaici e le porcellane di cornicioni davano lampi e il rosso delle pitture si accendeva nei fuochi di quell'oro. Pareva una brace viva nella quale ardessero le esposizioni, i palazzi di guanti e di cravate, le ghirlande di nastri di trine, gli alti mucchi di lana e bordato, le aiole fiorenti delle sete. Gli specchi lucicavano, l'esposizione degli ombrelli e rigonfi come scudi gettava riflessi metallici. Lontano, di là dalla striscia d'ombra, apparivano i reparti splendenti e brulicanti dorati dal sole. E in quell'ora suprema, in mezzo a quell'atmosfera ardente, le donne imperavano. Avevano preso d'assalto i magazzini e vi si accampavano come in terra conquistata, quasi un'orda invadente fermatasi tra la rovina delle merci. I commessi, sbalorditi, rotti dalla fatica, erano in loro balia ed esse comandavano con tirannia da sovrane. Alcune donne pigliavano a spinte la gente. Perfino le più magre volevano il loro posto e diventavano arroganti. Tutte, con la testa alta, i gesti violenti sembravano in casa loro, senza nessun riguardo l'una per l'altra, giovandosi del magazzino più che potevano, da furibonde. La Bourdelet, per rifarsi dei quattrini spesi, aveva portato di nuovo i tre bambini a bere lo sciroppo. La gente vi si accalcava ora come se non ne potesse più dalla sete. Le mamme stesse si riempivano di Malaga. Dalla mattina non c'erano voluti meno di 80 litri di sciroppo e 50 di vino. Dopo aver comprato il mantello, la desforge si era fatta dare alla cassa delle figurine e se ne andava almanaccando come potesse far venire Denise da lei per umiliarli in presenza di More stesso e, dal loro comportamento, comprenderne la verità. Finalmente, mentre Debove riusciva a perdersi nella folla con la Ghibal, la Debove con Blanche Valagnosch si era tolto il capriccio di chiedere un palloncino rosso per quanto non avesse comprato nulla. Faceva sempre così. A mani vuote non se ne voleva andare. L'avrebbe regalato al bambino del portinaio. Di palloncini ne avevano già dati via più di 39.000. E questi 40.000 palloncini, usciti dall'aria calda dei magazzini, volavano già come una nuvola rossa da un capo all'altro di Parigi, portando al cielo il nome del Paradiso delle Signore. Suonavano le 5. Soltanto la Martì era rimasta con la figlia a mirar l'ultimo moto della vendita. Non aveva forza di staccarsene, stanca, sfinita, ma trattenuta da vincoli così forti che tornava sempre sui suoi passi, senza tanto per portare la sua curiosità insaziabile in giro per i reparti. Era l'ora che la gente incitata da tanto frastuono suscitato intorno al gran magazzino si dava addirittura per vinta. I 60.000 franchi di avvisi pagati ai giornali, i 10.000 cartelli affissi sui muri, i 200.000 cataloghi sparsi dappertutto dopo aver vuotato le borse, lasciavano a quei nervi di donna il sussulto dell'ebrezza. E loro restavano commosse ancora delle invenzioni di Muret, i prezzi bassi, la resa, le gentilezze infinite. La Martì indugiava davanti alle rauche grida dei venditori tra il tintinio dell'oro versato nelle casse e il rumore dei pacchi che cadevano nel sotterraneo. Attraversò un'altra volta il pianterreno, la biancheria, la seta, i guanti e le lane, e poi salì da capo, abbandonandosi alla vibrazione metallica delle scale, dei ponti, e ritornò all'abbigliamento, alla biancheria, alle trine, fino al secondo piano tra i letti e i mobili. Dappertutto i commessi, Utenfa, Fie, Mignoli e Nard de L'Ospoli in denise, reggendosi appena in piedi, davano il colpo di grazia e, aiutati da quell'ultima febbre, sconfiggevano i clienti. La febbre non aveva fatto che crescere dalla mattina in poi, a poco a poco, come l'ebrezza che evaporava dalle stoffe smosse e rimosse. La calca fiammeggiava sotto l'incendio del sole delle cinque. La Martì aveva il viso animato e nervoso di un bambino che ha bevuto troppo vino. Era venuta con gli occhi limpidi, con la pelle fresca per il freddo della via, e ad agio ad agio si era infiammata gli occhi e il viso nell'avida contemplazione di quel lusso, di quei colori accesi che non facevano che stuzzicare e rinfocolare la sua passione. Quando finalmente uscì, dopo aver detto che avrebbe pagato a casa, atterrita dal conto, aveva i lineamenti contratti e gli occhi infossati come una malata. Bisognò che desse molte spinte per uscire dalla ressa ostinata della porta. Si ammazzavano quasi, contendendosi gli scarti. Poi, quando fu sul marciapiede ed ebbe ritrovata la figlia che aveva perduta, si sentì un brivido a quell'aria pungente e rimase stordita e stralunata nella spossatezza di tanto sussulto nervoso. La sera, mentre Denise usciva dal refettorio, un garzone la chiamò. «Signorina, vi vogliono alla direzione!» Si era dimenticata l'ordine di Muray di passare nel suo studio dopo la vendita. Egli l'aspettava in piedi. Nell'entrare, Denise non si tirò dietro la porta che restò aperta. «Siamo contenti di voi, signorina, e abbiamo pensato di dimostrarvelo in qualche modo. Sapete come Madame Frédéric ci abbia lasciati e in che modo indecente. Fin da domani prenderete il suo posto». Denise stava a sentire, immobile dalla meraviglia. Poi mormorò con voce tremante «Ma ci sono di quelle prima di me nel reparto. Che vuol dire? Voi siete la più brava, la più seria. E scelgo voi. È naturale. Siete contenta?» Allora ella arrossì. Sentiva insieme una contentezza e un imbarazzo piacevole nel quale si perdeva la sua paura di prima. Perché mai il suo primo pensiero era stato di sospettare il motivo di quell'insperato favore. Ma per quanto grande fosse l'impeto della riconoscenza, quel pensiero la confondeva. Mouret la guardava sorridendo, vestita di seta semplice, senza un gioiello, senz'altro lusso che quello della sua regale chioma bionda. Si era fatta più elegante. La pelle si era rischiarata. Aveva l'aspetto serio e delicato. La sua inespressiva esilità di prima si era mutata in una grazia attraente, incantevole. «Lei è troppo buono», balbettò. «Non so come esprimerle». Ma non potesse guidare. Nel vano della porta, l'homme si presentava tenendo nella sua unica mano un grande sacchetto di cuoio e stringendosi al petto col braccio mutilato un enorme portafoglio. Dietro di lui, suo figlio, Albert, portava un carico di sacchetti da rompergli le braccia. «587.210 franchi e 30 centesimi», gridò il cassiere, il cui volto si illuminò quella volta di un raggio di sole nel pronunziare quel numero. Il paradiso non aveva guadagnato mai quanto quel giorno. Lontano dalla profondità dei magazzini, che l'uomo aveva lentamente attraversati col passo pesante d'un bue troppo carico, si sentiva il clamore della meraviglia e della gioia che quell'immane in casso lasciava dovunque passava. «Bene», disse Muree gongolando. «Mio bravo l'homme, posate qui tutto e riposatevi perché non ne potete più. Ci penserò io a far portare il danaro alla cassa centrale. Sì, sì, tutto lì sul mio banco. Voglio vedere la montagna». Era allegro come un bambino. Il cassiere e il figlio si scaricarono. Il sacco mandò un acuto tintinio d'oro. Due dei sacchetti si strapparono lasciando cascare argento e rame e, dal portafoglio, fecero capolino gli angoli dei biglietti di banca. Quasi la metà della grande scrivania ne fu coperta. Era un patrimonio piovuto giù in dieci ore. Quando l'homme e Albert se ne furono andati, asciugandosi la fronte, Muree rimase un istante immobile, sopra pensiero, con gli occhi fissi sul denaro. Poi, alzando il capo, vide Denise, che si era scostata e ricominciò a sorridere. La fece riavvicinare e, alla fine, le disse che le voleva dare quanto oro potesse pigliare con una manciata. In fondo allo scherzo c'era una vera dichiarazione d'amore. «Qui, nel sacco! Scommetto che non pigliate mille franchi! Avete la mano tanto piccina!» Ma Denise era impallidita e indietreggiava. Dunque le voleva bene. E a un tratto capì. Sentì la fiamma crescente del desiderio, di cui egli l'avvolgeva da quando era tornata al paradiso. E il cuore le batteva in modo quasi da spezzarsi. Perché la offendeva con quel suo denaro, quando lei traboccava di gratitudine e una sola parola l'avrebbe fatta svenire? Lui si avvicinava, continuando a scherzare, quando, con sua sommastizza, comparve Bordoncle col pretesto di dirgli quanta gente era entrata, niente meno che 60.000 persone. Denise ringraziò di nuovo e si affrettò ad andarsene. Capitolo decimo La prima domenica d'agosto, al Paradiso, facevano l'inventario, che doveva essere finito la sera stessa. Tutti gli impiegati erano al loro posto come in un giorno di lavoro. E l'inventario era cominciato la mattina presto, a porti chiuse, nei magazzini vuoti di clienti. Denise non era scesa alle otto con le compagne. Da cinque giorni era chiuse in camera sua per una storta presa per salire al laboratorio. Stava meglio, ma Madame Orely non era severa con lei ed essa non si affrettava, mettendosi gli stivaletti con pena, risoluta non di meno a scendere nel reparto. Le stanze delle ragazze occupavano ora tutto il quinto piano dei fabbricati nuovi, lungo Rue Monsigny. Erano 60 da una parte e dall'altra di un corridoio, e un po' migliori di prima per quanto col solito lettino, l'armadio e la toilette. La vita intima delle commesse ci acquistava in pulizia ed eleganza, una tendenza ai saponi cari e la biancheria delicata. Una naturale scalata verso la borghesia, via via che la loro condizione migliorava, benché ancora si sentissero volare parolacce e sbattere le porte in questa atmosfera da camera immobiliate che le travolgeva dalla mattina alla sera. Ma Denise, come aiuto della direttrice, aveva una delle più belle stanze, con due finestre sulla strada e, ora ricca, se l'era abbellita da sé con un piumino rosso coperto di trina, un tappetino davanti all'armadio e due vasi di cristallo celeste sulla toilette con delle rose mezza passite. Quando si fu messa agli stivaletti, tentò di camminare per la stanza, ma si dovette appoggiare i mobili perché zoppicava ancora. Sperava, camminando, di vincere il male. Aveva però fatto bene a non accettare l'invito di andare quella sera a cena dello zio Badu e a pregare la zia di portare a spasso Pepe che aveva ripreso dalla Grà. Jeanne, che il giorno avanti era venuto a farle visita, doveva anche lui cenare dallo zio. Piano piano si sforzava di camminare.